Piramidi Dolmen Complessi di templi Cerchi di pietre Menhir Alcuni di essi sono stati arretti decini di millenni fa Queste strutture megalittiche stupiscono per la loro scala e perfezione di design La loro posizione, la loro forma e le immagini lasciate su di esse erano basate sulla conoscenza dell'astronomia, della geografia e della matematica superiore L'umanità moderna non è ancora riuscita a riprodurre la tecnologia della loro costruzione Chi li ha costruiti e perché? Perché era così importante per le civiltà precedenti eriggere queste strutture? Come possono le risposte a queste domande aiutarci a vivere la fase dei cataclismi climatici in atto? Guarda il 13 aprile nel caleidoscopio dei fatti Misteri delle antiche civiltà Megaliti e reperti È ora di restituire la verità alla gente Realizzato su iniziativa di partecipanti provenienti da Libano, Turchia e America Latina Grazie a tutti Grazie a tutti